Però spiega a me, lasciamo perdere Mastella, spiega a me. Lei mi ha detto spesso che l'azione deve essere alternativa sia al centro-destra che al centro-sinistra. E quindi è il centro. Ma no, vede, lei, secondo me noi confondiamo, la dico così, tutti, quello che succede nel Parlamento, cioè dove siede uno in Parlamento, da lì nasce destra, sinistra e centro, e quella che è una cultura politica. Allora, la cultura politica del centrismo in Italia, ha dei connotati molto chiari, vuole essere ago della bilancia, cioè vuole mettersi lì e dire, cara destra, cara sinistra, chi mi aiuta, chi mi dà di più. Vuole essere moderata, vuole cioè non fare mai proposte che siano in qualche modo di rottura. Di rottura. Ecco, tutto questo non corrisponde al lavoro che stiamo facendo. È contrario di calenda, effettivamente. Ma no, ma al di là che sia contrario mio o non mio, la questione è perché uno deve fare politica in Italia? Cioè, che senso ha? Per quanto mi concerne, ha un senso se cerchi di rispondere a un'esigenza che determina lo distacco tra i cittadini e la politica. E questa esigenza da cosa viene? Forse dalla serietà, per esempio. Dal fatto che se dici una cosa, tendi a farla. Dalla rettitudine etica. Cioè, dal fatto che non fai cose che magari sono anche legali, ma che sono inappropriate. Dal fatto che quando... Sto pensando di Renzi o di Saudita? No, 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 figuriamoci se è solo Renzi. Dal fatto che tu cerchi di dare una risposta, di dare risposte che rispondono a un principio di verità, cioè non prometti cose che non riesci a realizzare. Allora, questi criteri noi li abbiamo cercati di portare nella campagna per Roma. E ha funzionato. Perché abbiamo preso il 20%, non ha funzionato fino in fondo, perché non sono diventato sindaco. Quello che facciamo con azione è questo. E fa sì che noi stiamo lavorando a radicamento territoriale, abbiamo mille amministratori locali, perché sono la parte, io credo, più sana della politica. Abbiamo fatto... Finisco solo una cosa. Abbiamo fatto 108 congressi provinciali, il 19-20 facciamo un vero congresso nazionale. Perché anche ridarsi la forma a partito, con organi democratici, eletti con principi democratici, tutto questo fa parte di un lavoro che io provo a definire serio, non perché... Di rifondazione, dice lei. Cioè, il più serio che io riesco a fare. Proprio nel giorno in cui lo Statuto dei Cinque Stelle viene sospeso, oppure il capo dice lei, se facciamo delle organizzazioni che abbiano un pochino di geometria definita. Ma poi in generale io penso che la politica ha un difetto di quello che i romani chiamavano la gravitas, cioè la pesantezza, no? Cioè la pesantezza in termini di autorevolezza. Ed è un paradosso se lei ci pensa, perché a noi piacciono molto Mattarella e Draghi, ma votiamo persone che sono l'opposto di Mattarella e Draghi. È un po' così, è vero. Perché? Perché la voto individuale è diventata uno stile di consumo. Io mi ritrovo in quel momento nella Meloni perché dice le cose come vanno dette, oppure mi ritrovo in quel momento in letta perché dice che loro sono i buoni. Non sto parlando... Adesso non voglio banalizzare. Esempi. Però è tutto molto sul momento. Mentre invece poi ci piacciono Draghi e Mattarella perché hanno tutte le caratteristiche e dei politici che non votiamo.